Ciao a tutti, bentornati su Rosticine e Kpop Sono di nuovo Giuna, sono tornata E eccomi, ho ripreso possesso del canale Che bello! Hai visto? Sei contenta? Ti mancavo? Tantissimo! Anche perché se no dovevi fare l'intro di nuovo Vuoi fare l'intro? Oddio, per quello sono mancata, grazie Perché sono già un disagio All'altro video Bentornati, siamo di nuovo qui a Vedere video Oggi facciamo Due reaction Sono uscite due cose Non so se ieri, l'altro ieri o oggi Non mi ricordo più Ieri, mi sa che sono usciti tutti i due ieri forse Allora, sono i TO1 Che prima erano TO, però vabbè E le Pixie Cambiamo numeri, debuttiamo Diventiamo delle bestie È piena di macchine Questa cosa Sì, è piena di macchine Voglio defenestrarmi Due Uno Via Ottimo Sì, è piena di macchine Cielo Oh, no No, no C'è un pochino Ok, tocco Ok, tutto bene Sì, è veramente Sì, è un pochino È un pochino È un pochino Sì, è un pochino È un pochino Sì, è un pochino Siiii! Era bellissimo! No Jerome, ci accalmati perché... Aia! Mimitsu! Quanto sei un mamma mia tu proprio! Io, ben detto... Aia! Guarda sta... Sono va beast! E questa sono va beast! Aia! Aia! E dai! Quanto senti l'uomo! Guardalo! Guardalo! Io ti... Io ti odio! Io non lo commento! E' convinta fosse cinese! Dai mi ricordo! C'è una? Non lo so! C'era la faccia da cinese all'inizio Io proprio controllai e vi dici che era coreano tipo... Madonna! No vabbè! Guarda quanto sono belli! Mamma! Madonna Chan! Madonna! Mamma mia! Vediamoci due occhi! Madonna! Sì! Quanto è bello lui quando... Non fate queste cose davanti a me! Grazie! Sì! 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 Tu posso avere 27 problemi? DIO! Ma di su sei impazzito! Ahahahah! Di su non mi sto... Non mi sto cacando! Come mi sto scioccando! Madonna! Bellissimi! Bellissimi! Veramente bellissimi! Mamma mia! Aia tutto! Veramente! Oh! Cacchio! Che bello! Questo è un gruppo di problemi! Mio dio! Cioè posso avere tipo due bias e tre breaker! Cioè... Ahahahah! Bellissimi! C'è un problema! J1 è bellissimo! Io non posso averlo! Io non... Come faccio a categorizzarlo quel cristiano? Più che altro sono piccoli! No ma tu... Non... Perché devi... Non è proprio no! Chiara! Era giusto per capire... Ma non ci... No! Ah! J.U. Sì è il rapper! Sì! Il rapper! Sì! Con le orecchie un po' a sventola! Che mi piace un sacco! Ah! Non ha le orecchie a sventola! J.U. Un po' l'ho detto! Non è vero! E poi... Minsu a me piaceva di più... Non lo so... Mi piaceva di più che i capelli rossi! Non lo so perché! È raro che... Che mi piacciono... Cioè che un idol con i capelli neri non dica... Wow! Però mi faceva più... No! A Minsu! Come i capelli rossi! Vabbè! Però... Io sono tipo... Scioccata però! E vabbè! Non lo so! Mi sembra più patata prima! Quindi tipo... E purtroppo cresceranno! Ho fatto certe facce! Ah! Quello sì! Sì! Wow! Non lo so perché boh! Sarai che ho visto... Io mi sono vista un paio di programmi loro! Sì! Quindi sono proprio abituata al loro mood patate! E quindi... Non lo so! Cioè... Non lo so! Mi sono piaciuti un sacco! Poi vedrò il... Cioè sentirò l'album! E... Sì! Assolutamente! Quando avrò tempo! E vedrò cosa ne penso! Yes! Ok! Bene! Quindi qua finiamo la... Abbiamo finito con... Con i TO1! E... Ci vediamo la prossima... Appena dopo! Ciao!